Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. Forse non tanto per demerito nostro, ma perché ci sono delle squadre, come vediamo Sassari, corazzate, delle squadre pronte a fare i playoff, delle squadre che giocano in modo intenso. Oggi serveva un passo in avanti da parte di tutti, oggi magari è più facile vedere statisticamente la mia partita, ma se andiamo a vedere le piccole cose di tutti, il grande atteggiamento difensivo. Dopo tanto tempo si è visto una squadra che, tornando sotto di due, ha iniziato a guardarsi di nuovo sugli occhi, non scuota la testa, ma ha detto che questa partita è importante, dobbiamo essere tutti assieme, perché abbiamo capito che queste sono occasioni importanti, che ai ragazzi fa male sentire che la squadra ha mollato, che la squadra ha una speranza, che la squadra ormai si rassegna e salva e la partita di oggi credo sia l'esempio che qui nessuno ha mollato, che è ancora tutto in ballo e che nessuna partita scontata. Se vediamo i risultati di oggi ne è ancora un altro modo per dire che questo è un campionato incredibile e difficilissimo. Quindi ringrazio per i complimenti, ma sono qui per portare i complimenti principalmente a tutta la squadra, perché tutti abbiamo fatto veramente un grande passo in avanti per vincere contro questa grande, ripeto, grande Sassari. Abbiamo visto tutta la settimana le grandi individualità che aveva Sassari e allora avevamo preso le sfide personali come delle grandi sfide, per dire chi è meglio di me, chi è che mi fa un canestro, chi è che può battermi uno contro uno. Il secondo tempo abbiamo deciso di prenderla come sfide personali, giocare contro Sassari vuol dire principalmente giocare contro l'uno contro uno loro e credo che sia stato questo il grande step che abbiamo fatto. Non più pensare che c'era bisogno prima della difesa di squadra e poi personale, ma c'era bisogno prima del personale e poi sarebbe arrivato un aiuto. Ma quando sul personale sbagli poco, poi crei queste grandi partite. Sì, io credo che questa partita sicuramente sarà una di quelle partite che rimarrà nella memoria del Pistoia Basket, perché ricordiamo che loro avevano lo scudetto sulla maglia e ogni tanto non ci si ricorda di questo, perché la stagione perdi una, vinci un'altra, non dovevamo far meglio, ma qui siamo Pistoia, qui avevamo un obiettivo nella stagione e invece stiamo facendo delle cose importantissime. Oggi è stato qualcosa di importante, un altro tassello che farà di questa stagione qualcosa di storico e quindi ci teniamo, perché principalmente ci siamo divertiti noi come giocatori e credo che questo si sia visto oggi.